Dati contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Dolore. Sì, mi fa un male pazzesco. Perché mi trattate come un animale da laboratorio? Basta, smettetela. Quelle dannate figure bianche, quelle lenti scure, vuote. Io, io non posso piangere. Piangere. Cosa vuol dire piangere? Io, non posso. Se ne va via anche il mio ultimo braccio. Ormai sono diventato preda della vostra follia. Perché? Perché sorridete? Non immaginate cosa voglia dire essere privati della propria vita. Mostri senza emozioni. Se solo potessi parlare. Se solo potessi udire. Se solo potessi capire il perché di questo. Non è giusto. Sto lentamente svalendo. Non riesco a capire cosa stia uscendo dal mio corpo. Forse un liquido. Riesco a sentire la sensazione di vuoto in me. Intanto sembra che loro si stiano agitando. Cosa sarà successo? Ecco uno di loro avvicinarsi a me. Insieme ad un altro robot addormentato. Portato su una specie di barella. No! No! Cosa volete fare? Lascia stare la mia testa! Tu! Non puoi! Non... E Ries data. Cazzo, anche questo non ha retto. Un altro fallimento. Ehi sbrigatevi. Proviamo a mettere quel cervello dentro quest'altro robot. Dobbiamo scoprire se uno di loro è abbastanza forte da dominare il dolore di una mente umana.